ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale di origano verde per chi è nuovo benvenuto io sono alice ed oggi prepariamo delle facili e buonissime melanzane gratinate senza uova e senza formaggi davvero gustose e irresistibili perciò cominciamo subito per prima cosa tagliamo a fette regolari di un centimetro circa due melanzane le stendiamo in una teglia precedentemente oleata e ricopriamo ancora con un filo d'olio inforniamo a 200 gradi in modalità statica per 10 minuti circa nel frattempo tagliamo a pezzettini piccoli i pomodorini e li versiamo in una ciotola aggiungiamo sale pepe olio 50 grammi di pangrattato 30 grammi di lievito alimentare e un cucchiaio abbondante di origano essiccato e mescoliamo bene aggiungiamo qualche altro cucchiaio di olio e mescoliamo ancora trascorsi 10 minuti versiamo il composto sopra ogni melanzana facendo una leggera pressione mettiamo nuovamente in forno per altri 15 minuti sempre a 200 gradi ed ecco qua le nostre melanzane sono pronte spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile io vi ringrazio per averlo visto e vi do appuntamento alla prossima grazie a tutti